Nella decorazione ad aerografo delle calzature in pelle il problema che stai per vedere si verifica molto spesso. Il colore dell'aerografia, anche se è di qualità, tende a sfogliare e a staccarsi in breve tempo. Da cosa dipende? L'inconveniente nasce dal fatto che le calzature in pelle vengono trattate con coloranti miscelati a cere che conferiscono al pellame morbidezza e impermeabilità. Prima della decorazione quindi usa un prodotto specifico per sgrassare la pelle e rimuovere la ceratura superficiale. Io uso il deglaser dell'Angelus. Dopo questo trattamento di pulizia la tua decorazione non avrà alcun problema. Ciao, alla prossima e buon lavoro con l'aerografo!